Buongiorno e benvenuti a Makeup Packaging Happen, l'evento digital dedicato al packaging in carta per la cosmetica del domani. Io sono Pauline e questo è Makeup Packaging Happen. Abbastanza centrato l'obiettivo numero 9 che è quello dell'impresa e innovazione. CMF sta per Color, Material & Finish e il CMF Design è quella branca della prima persona. Sta di un sistema di gestione che ha portato all'ottenimento delle certificazioni ISO 9.1, CFC e FSC. Questo è lo spirito e anima a Cartiera San Martino che intende condividere con i propri esecutori. Ora veniamo ad un altro elemento chiave nella produzione del brand di lusso, la colla. Intanto parliamo di ecologia. Quando i brand di lusso hanno iniziato a parlare di prodotti ecosostenibili, naturali, riciclabili… Se questa non è ecologia… La nobilitazione altera la riciclabilità del prodotto finale? No, assolutamente. La quantità di alluminio che compone i nostri prodotti è talmente esigua. Sembra interessante, ma… I veri giocatori in questo campo siete voi, con le vostre esigenze, quelle dei vostri clienti e quelle del prodotto da compazionare. Giusto per darvi una suggestione nella vastissima range di colori e finiture che Pedregoni offre, abbiamo selezionato i colori che più semplici… Il 2020 vede un ulteriore salto, il packaging per il make-up. Il mercato francese, dove abbiamo fornito un impianto abbastanza importante per la realizzazione di scattoli automontanti. Tutte le tipologie di robot esistenti, non solo Delta quindi, ma anche Scara, Cartesiani, Antropomorti e robot collaborativi. Vedo che non sia un oggetto, una tecnica sostitutiva. Davvero molto interessante come risultato, abbiamo anche un altro livello di precisione nel posizionamento. Grazie per la visione! Grazie a tutti!